Domanda, che succederà all'Asi, il consorzio che gestisce la depurazione e i servizi in otto ore industriali della provincia di Avellino, quando a gennaio i sindaci saranno chiamati ad approvare il bilancio e dunque a confermare o a ribaltare la presidenza di Vincenzo Sirignano, frutto allora dell'accordo tra Demita e Damedio che prevalse sul fronte composto da Foti, Famiglietti e De Caro, risposta non ce ne può fregare di meno, perché? Perché l'Asi è un disastro che si è consolidato nel tempo, fisiologicamente portato ad accumulare debiti, perché come all'alto calore ha più scrivanie che truppe sul campo, alle quali corrisponde quindicesime e sedicesime, perché la politica e i sindacati l'hanno infeudata a piacimento, perché come altri scrigni è stata sempre gestita al ribasso, una fabbrichetta del consenso basata sulla garanzia dello stipendio e delle rendite di posizione e non sul consenso che invece deriva dal far funzionare una cosa per garantire, fortificare dipendenti, l'occupazione, le professionalità. Pensate, l'unico consorzio in Italia che si occupa di depurazioni e servizi industriali con 23 milioni di debiti, quando gli stessi consorzi in Italia accumulano profitti uguali e anche di molto superiori ai debiti che hanno accumulato Sirignano e i suoi predecessori. Insomma, quello che in termini gergali si chiama zizzinella e non è la sola prodiga mammella ad essere spremuta più non posso in provincia di Avellino, l'ingresso dei privati, sarebbe forse questa la medicina giusta per invertire il corso della malattia che continua a drenare inutilmente soldi pubblici in attesa della riforma regionale promessa ma ancora ai blocchi. Ogni volta che hanno tentato di prendere questa strada, che altrove funziona, non se n'è fatto niente, mettersi un estraneo in casa hanno pensato pur di continuare a succhiare, stanno provando o facendo finta di provarci anche stavolta. Venga o meno riconfermato il volenteroso Cenzino, la cui gestione suo malgrado è passata da 21 a 23 milioni di debiti, diventa un problema anche molto secondario. Sirignano o chi per lui continueranno inevitabilmente ad incassare debiti anche con l'ingresso dei privati se la governance resta quella che conosciamo. Senza la riforma l'esercizio resterà affidato alla zizzinella.